Buongiorno, la confezione di Valeriana, grazie. Sì, subito. Visto lo stato d'ansia, io ne prenderei due. Oh, salve. Oddio, ma quella è colpa mia? Eh sì, ha fatto centro. Mi scusi, ho esagerato. È che quando si tratta di Vincenzo perdo la testa. Ah, ma sono sicuro che il giudice le darà le attenuanti previste per le mamme ansiose. Ma no, sto scherzando, su. Fa parte del mio mestiere, capita. Gente balorda, ubriachi. Mamma è fuori di testa. Ma sa che anch'io avevo una mamma così? Quanto rompeva. Senta, mi mette in conto anche questo, un ghiaccio secco. Ah, la signora pensa che bastino 12 euro per farmi ritirare la denuncia. Ma perché l'ha già fatta? E chi può dirla? E come ha fatto se non sa il mio nome? Ecco, se me lo dice, completiamo il verbale. Io sono Lucio. Irene. Grazie. 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 Grazie.